Con noi il nostro professor Burioni Allora, ah però, sono stato scortato Che ingresso, grazie L'ho accompagnato io, eh Grazie Si sieda, quello vero, incredibile Mi ha controllato il green pasta Ti ha la portafoglio tutto a posto, sì Tutto a posto Allora, professore La situazione sta tornando seria, preoccupante Insomma, vorrei intanto una sua analisi sulla vicenda Sulla situazione e sui dati La situazione, come è prevedibile per tutti i virus respiratori Con i mesi più freddi diventa peggiore A questo si unisce il fatto che rispetto all'anno scorso Abbiamo un virus molto molto più contagioso Però a nostro favore c'è il fatto che Tra i paesi europei Noi siamo quelli che per primi Si sono posti il problema di un controllo Sia in termini di protezioni all'interno Sia anche in termini di un green pass Che è stato evidentemente efficace E soprattutto nel fare vaccinare in gran numero i giovani Ecco, questo fa sì che il virus circoli di meno E in questo momento in Italia abbiamo Come molte altre parti del mondo Due epidemie Una dei vaccinati Che ha molti casi lievi E un'altra dei non vaccinati Che purtroppo invece ha anche casi che sono gravi Intorno a noi la situazione è purtroppo meno tranquilla Insomma ci sono paesi dove la situazione è veramente grave E noi possiamo approfittare della cortesia Dai nostri corrispondenti della RAI Per fare un giro appunto Per capire quello che succede intorno a noi Io incomincierei con Berlino Con Rino Pellino Per parlare della situazione in Germania E anche in Austria Buonasera Rino e grazie Grazie per averci atteso Buonasera Buonasera a te Allora mi pare che lì si stiano prendendo in considerazione misure ormai decisamente severe Sì da mezzanotte parte il lockdown generale in Austria Perché non sono riusciti a tenere sotto controllo per tempo la situazione La Germania sta pensando in pratica ad un lockdown per i vaccinati nei fatti Ma ci sono già dei lockdown sparsi in vari hotspot Soprattutto della Baviera e della Sassonia Ci sono due elementi sostanzialmente Uno che in entrambi i casi in due stati federali La situazione non è stata gestita in maniera ottimale Perché si sono mossi in maniera sparsa In maniera diversa da regione a regione Un paio di giorni fa parlavo con l'assessore alla sanità di Vienna Che è la capitale ma è anche una città-stato E lui diceva abbiamo litigato molto con il governo centrale Noi abbiamo tenuto le mascherine per tutto il tempo Continuato la campagna vaccinale Invitando le persone a vaccinarsi Fatto una campagna di test Diversa da quella che si è fatta in passato E adesso abbiamo una situazione tranquilla In altre regioni dell'Austria la situazione è anche abbastanza drammatica La media complessiva dell'incidenza in Austria Ormai è praticamente a mille casi su 100.000 abitanti Il numero dei contagi è di 15.300 al giorno Sostanzialmente per un paese di 8 milioni di abitanti è tantissimo Una cosa abbastanza analoga è successa in Germania Anche in Germania dopo l'arrivo praticamente dei vaccini Che tutti attendevano spasmodicamente quest'estate Poco dopo è cominciato un rilassamento Tutti si sono sentiti tranquilli Si sono sentiti sicuri E hanno tralasciato di fare attenzione Soprattutto hanno smesso di vaccinarsi Morale della favola In tutti e due i paesi I vaccinati sono al 65% E l'87% dei malati ricoverati sono non vaccinati Ecco questo professor Borioni è un dato di fatto indiscutibile Per l'appunto che però non mette al riparo anche il nostro paese Nel senso che No perché purtroppo Quelle fruttiere sono aperte Parte il fatto che sono aperte E non a caso nelle zone più vicine all'Austria Un po' perché la gente si vaccina di meno Un po' perché appunto ci sono scambi con quel paese Ci sono molti più casi Certo I mercatini sono stati chiusi I mercatini di Natale anche Marino Quasi ovunque La Baviera li ha chiusi praticamente tutti Anche la Sassonia Che sono le due regioni più colpite E sono anche quelle con meno vaccinati Perché siamo intorno al 50-55% A seconda delle situazioni E stanno arrivando anche tutta una serie di altre restrizioni Per esempio da mercoledì Anche per salire sugli autobus I vaccinati avranno bisogno del tampone Così come per andare a lavorare In tante situazioni tipo ristoranti E bar I locali pubblici non potranno entrare in assoluto Il problema che dicevano a Vienna Il problema è che comunque fare un lockdown per i non vaccinati È complicatissimo perché non è che puoi fermare tutte le persone in giro Il problema è il controllo Il Green Pass O i documenti Grazie mille Rino Grazie mille Io andrei a vedere che cosa succede a Londra Lo abbiamo Marco Varvello Il nostro corrispondente Buonasera Marco Grazie anche a te naturalmente Buonasera a voi Ecco anche lì È interessante Capire che cosa sta succedendo E come si sta reagendo Sì direi che sono due le cose da segnalare Innanzitutto che qui l'andamento è anticiclico Per così dire rispetto all'Europa continentale Per cui un mese fa erano messi molto peggio Qui in Gran Bretagna Eravamo messi tutti molto peggio Adesso sembra il contrario Perché sono tempi diversi Soprattutto di campagna vaccinale E questo ci porta al secondo elemento chiave E chiarissimo anche da quello che sta succedendo Qui oltremanica Che proprio l'elemento per tenere sotto controllo Poi vediamo magari i dati Ma sotto controllo della situazione È la terza dose È il booster Dati dell'Università di Oxford Che dicono che dopo 5 o 6 mesi Perché la terza dose viene appunto somministrata Qui hanno già anticipato Si può fare anche dopo 5 mesi La terza dose di AstraZeneca Di che cosa? Quale vaccino viene inoculato adesso? Guarda allora Dipende dalle situazioni personali Ma al 90% Come riguardato il sottoscritto Cioè persone senza particolari patologie Hanno avuto 2 AstraZeneca prima E poi Pfizer E dicevo L'Università di Oxford dice Che se l'immunizzazione scende man mano E arriva al 50% Dopo 5 o 6 mesi Con il booster Torna oltre il 90% Anche nelle fasce alte della popolazione Quindi qui stanno pompando moltissimo Giustamente la diffusione della terza dose Ne hanno già somministrati 15 milioni Che vuol dire un quarto della popolazione adulta E solo così si riesce a tenere sotto controllo Una situazione dal punto di vista sanitario In un paese Che come sappiamo Abbiamo raccontato tante volte Da metà luglio Non ha né restrizioni Né obbligo di green pass In Irlanda invece da giovedì scorso C'è il coprifuoco Perché lì non hanno capito subito Che dovevano andare anche sulla terza dose Quindi hanno ritardato molto Adesso stanno cercando di recuperare E con la mancanza di restrizioni Anche in Irlanda Adesso cercano appunto di metterci una pezza Ma ripeto L'esempio britannico Credo che il professor Burioni Possa confermarlo Ci dice che sul campo Visto che ne hanno già fatti 15 milioni Sul campo la terza dose è fondamentale Per affrontare l'inverno Teniamo presente che qui comunque Considerano fisiologico Accettabile È quasi normale avere 41.000 casi al giorno nuovi In media dell'ultima settimana Con purtroppo 150 morti al giorno È fisiologico professore? No E si può accettare Perché è una scelta politica Però che tre autobus di persone Ogni giorno muoiono Morti che potrebbero essere evitate Col vaccino Io personalmente Forse perché sono un medico Ha una deformazione professionale Non lo ritengo per niente accettabile Allora ringraziamo anche Marco Varvello Per essere stato con noi Grazie davvero Marco E andiamo a Mosca Dove la situazione è pesante C'è Marc Innero per noi Buonasera Marc Grazie Ecco Lì la percentuale dei vaccinati È intorno al 50-55% Se ben ricordo Perché c'è È un po' meno O addirittura è inferiore Ecco Perché c'è questa ritrosia Nel confronto del vaccino? Perché non si è riusciti A far passare appunto Il messaggio della necessità Beh perché Qui c'è una Atavica storica E diffusissima Non solo in Russia Ma in tutta la ex Unione Sovietica Ma anche nei paesi Dell'ex blocco di Varsavia Sfiducia Nei confronti dello Stato E quindi Malgrado la Russia Sia stato il primo paese Al mondo Ad aver registrato Un vaccino Al punto Il famoso Sputnik Il tasso di vaccinazione E di immunità Quindi di doppia dose È di un 40% scarso Della popolazione E quindi abbiamo 37-38 mila casi Stabilmente al giorno Di nuovi contagi Quindi più o meno I numeri dell'Inghilterra Però con un numero 10 volte superiore Di morti Siamo intorno Ai 1250 morti al giorno E questo perché? Perché ormai si è capito Nell'85-86% Dei casi Quelli che sono In terapia intensiva O che muoiono Non sono vaccinati Non hanno ricevuto Nemmeno la prima dose Altro dato sconfortante È il fatto che Molti di quelli Che sono in terapia intensiva O che sono morti Chi è in terapia intensiva A molti hanno dichiarato Hanno ammesso Di avere acquisito Acquistato Un certificato Fasullo Di vaccinazione Perché? Perché qui Si era introdotto Inizialmente A ottobre Una idea Di avviarsi Verso un green pass All'italiano C'è stato Un lockdown parziale Che è durato Una decina di giorni A cavallo Tra ottobre e novembre Poi si è Riaperto lentamente Ma ci si è resi conto Che La campagna Per un green pass Si sarebbe scontrata Con una massiccia Mole Di certificati falsi Il che ha fatto In qualche modo Rescedere Il governo E anche il Parlamento Dal discutere L'introduzione Di un green pass All'italiano Perché di questo Si sta parlando E di rimandare Il tutto Intorno a metà dicembre Per capire Prima delle feste Delle feste Di fine anno Che cosa succederà L'andamento È un po' come in Inghilterra La curva Dei contagi Si è stabilizzata Intorno ai 37 38 mila Casi al giorno I morti Anche Ma non diminuiscono Siamo intorno ai 1250 La cosa interessante E questo giusto per terminare C'è uno studio Che è stato condotto Nel corso del mese di ottobre A San Pietroburgo Secondo il quale Risulta che tra la popolazione Dei non vaccinati Il 78% Nella regione di San Pietroburgo Ha sviluppato Gli anticorpi Se si considerano Però anche i vaccinati Allora risulta Che l'83% Della popolazione Sarebbe immune Il che farebbe pensare Che siamo di fronte Ad una sorta di immunità Di gregge Raggiunta Solo in minima parte Grazie ai vaccini E in massima parte Al fatto di Averla fatta Consapevolmente O inconsapevolmente Correre E questo è uno Dei motivi Per i quali Adesso si sta ragionando Sulla introduzione O meno Di un green pass All'italiano Si attenderà Metà dicembre Naturalmente Non è così Purtroppo L'immunità Che viene conferita Dall'infezione E la successiva guarigione È meno robusta Di quella che viene conferita Dal vaccino Per cui Anche chi si è ammalato Ed è guarito Deve dopo sei mesi Assolutamente Fare una dose Di vaccino Altrimenti sono guai Grazie Mark Inaro Grazie Per essere stato Con noi Professore Abbiamo parlato prima Con Marco Barvello Della terza dose Della necessità Della terza dose Ed è proprio questo In qualche modo L'argomento Della sua lezione Che vado ad ascoltare Grazie Qualche settimana fa Abbiamo raccontato Come La Dosaggio Degli anticorpi Non sia particolarmente Utile Prima di fare La terza dose Questo ha suscitato Curiosità Ha suscitato Domande Per cui Questa sera Chiariamo Un po' meglio La questione Per chiarirla Dobbiamo Illustrarvi un concetto Il correlato di protezione Sembra Una cosa Molto complicata Invece Una cosa Molto semplice Il correlato di protezione È un esame Del sangue Che io posso fare A un paziente E a seconda Del risultato Posso dire Che il paziente È protetto Dall'infezione Oppure Che non è protetto Nel caso Della rosolia Per esempio La cosa È molto semplice Sapete Che è un'infezione Molto pericolosa In gravidanza Quindi Immaginiamo Una signora Che aspetta Un bambino Che viene da me E dice Professore Io non ricordo Se sono stata vaccinata E cosa devo fare È molto semplice Io Prendo il sangue E le faccio dosare Gli anticorpi Contro il virus Della rosolia Se sono superiori A un certo livello Che è 10 unità internazionali Per millilitro Io posso dire A questa signora Stia tranquilla Perché lei La rosolia Non riuscirà A contrarla Neanche volendolo Al contrario Se gli anticorpi Sono di meno Le dico Stia attenta Perché lei Può essere infettata Questa è la situazione Più semplice Il correlato di protezione C'è Non sempre però Le cose Sono così lineari Se parliamo per esempio Dell'influenza È vero che c'è un correlato Di protezione Cioè Alcuni anticorpi Proteggono Ma non tutti Quindi dosare gli anticorpi Complessivamente Non serve Bisogna dosare Gli anticorpi Che neutralizza Il virus Ed è molto complicato Farlo Per questo In concreto Non si usa In altri casi Addirittura Il correlato di protezione Proprio non c'è Per esempio Nel caso del vaccino Contro il papilloma Noi non sappiamo Distinguere in nessun modo Chi è protetto dal vaccino Da quella piccolissima parte Nessun vaccino Funziona al 100% Che nonostante la vaccinazione Si può infettare Nel caso del covid Qual è la situazione? Ecco Sarebbe molto importante Avere un dato Avere un livello di anticorpi Che ci dice Questo paziente è protetto Ma sarebbe importante Per tanti motivi Purtroppo però Ancora questo Non si è riuscito ad ottenere C'è stato uno studio Molto ampio Che è avvenuto in Israele Nel paese dove Si è cominciato per primo A vaccinare E che ha riguardato L'osservazione di pazienti Che si erano infettati Nonostante la vaccinazione Purtroppo Questi ricercatori Non sono riusciti A definire Un titolo anticorpale Protettivo E per questo Tutte le organizzazioni Sanitarie Internazionali Raccomandano Di non valutare La protezione Di una persona Attraverso La quantità di anticorpi Valutare La quantità di anticorpi Non serve neanche Per capire Se ci saranno Degli effetti collaterali Perché possono esserci In generale Sono molto lieve Febbre Dolori Cose di questo tipo Ma non dipendono Da quantità di anticorpi Che il paziente ha Nel momento Della vaccinazione O del richiamo O della terza dose Dunque Facciamo la terza dose Quando deve essere fatta Non c'è bisogno Di dosare Gli anticorpi Piuttosto Parlando di terza dose Stanno cominciando A derivare i primi dati Oltre a quelli Che arrivano Dall'Inghilterra Ci sono quelli Che arrivano da Israele Sono quelli più avanti Nelle vaccinazioni Sono quelli che hanno cominciato Per prima Sono quelli che hanno avuto Per primi bisogno Della terza dose E i dati sono veramente entusiasmanti Sia dal punto di vista Della sicurezza Che è confermata Sia dal punto di vista Della protezione Che per l'appunto Arriva Vicino Al cento per cento Qualcuno Tentenna con questo vaccino Perché Dice È un vaccino Sperimentale Non è vero Questo è un vaccino Sperimentato E per dimostrarvelo Prendiamo un esempio Uno degli ultimi vaccini Approvati È quello contro Il meningococco Di tipo C È stato approvato Nel 2015 In il Regno Unito E poi Poco dopo Anche in Italia Questo vaccino Che facciamo Ai nostri figli L'ho fatto a mia figlia È stato somministrato Nel Regno Unito A 5 milioni Di dosi Quindi La platea Dalla quale si possono Ricavare Indicazioni Sulla sicurezza Sono 5 milioni Di somministrazioni Bene Il vaccino Contro il Covid Solo nel Regno Unito È stato somministrato In 110 milioni Di dosi Se poi Vogliamo rimanere In Italia Prendiamo uno dei vaccini Che è obbligatorio Per i nostri bambini Come quello Contro il morbillo Questo vaccino È stato somministrato Negli ultimi 20 anni Più o meno In un numero Un po' inferiore A 20 milioni Di dosi 20 milioni Di dosi Per il vaccino Contro il morbillo Ma le dosi Somministrate In Italia Del vaccino Contro il Covid Sono 94 milioni Quindi Questo vaccino Non è sperimentale È sperimentato Ora qualcuno Potrà dire Ah ma Non sappiamo Quali sono Gli effetti A lungo termine Ma non esiste Nessun vaccino Nella storia Dell'uomo Che abbia dato Effetti A lungo termine Oltre le due Settimane Dalla somministrazione E non esiste Nessuna plausibile Ragione scientifica Che faccia pensare Che questo vaccino Possa avere effetti A lungo termine Mentre Molto più preoccupante È il potenziale effetto A lungo termine Del Covid Dunque Se voi entrate In una farmacia E cominciate a scegliere Tra gli scaffali Un farmaco Sappiate che Nessuno di quei farmaci È stato sperimentato Tanto quanto Questo vaccino Che è stato somministrato Sotto controllo medico A miliardi di persone Dunque Con tranquillità Fatevi la terza dose Quando dovete farla Ma soprattutto Mi raccomando Chi non l'ha fatta Faccia la prima dose Perché In questo momento Il virus sta ricominciando A circolare E sarebbe veramente Un peccato Ammalarsi Magari rischiare la vita Mentre abbiamo Un vaccino sicuro E efficace Che ci può tenere Tutti quanti protetti Grazie Grazie professore Grazie per la sua chiarezza Grazie Grazie Grazie